Durante il confronto vi abbiamo chiesto chi vi stesse convincendo di più ed ecco come la pensate. Siete rimasti maggiormente convinti dal candidato 5 Stelle Marcello De Vito, un 36% di voi si è espresso a suo favore. Poi c'è un 26% per il candidato del centro-sinistra Ignazio Marino, un 20% per il sindaco in carica Gianni Alemanno e un 18% invece per l'altro candidato Alfio Marchini.